Verrà effettuata una prova banco dove il motore verrà frenato almeno 40 secondi perché è molto importante che la prova abbia una durata almeno di quel tempo perché così abbiamo un risultato più veritiero e possiamo vedere quanti cavalli effettivamente ha l'autovettura. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo a bordo di una delle 500 più potenti d'Italia. Forse è la più potente. Abbiamo appena effettuato la prova al banco e adesso sentiamo la sua accelerazione su strada. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.